La vita è fatta di coincidenze, in questo caso queste coincidenze possono cambiare in meglio la comodità della vita delle persone. Con questo slogan il segretario al lavoro, con delega ai rapporti con la Steodoro Lunfernini, introduce le novità e gli obiettivi del riassetto del servizio di trasporto pubblico. Dopo oltre 40 anni una riorganizzazione che vuole rispondere alle esigenze degli utenti, mutate di pari passo ai cambiamenti nei nodi viari o nella distribuzione delle attività in territorio, togliendo sempre ferma l'ottica di servizio pubblico. Sono stati mesi di lavoro intenso da parte degli uffici, dell'azienda, dei suoi servizi, dei suoi funzionari. Credo che sia un ottimo lavoro che in questo caso mettiamo a disposizione della nostra comunità. L'azienda di Stato per i Servizi Pubblici, come sua missione, ha solo ed esclusivamente gli interessi dei nostri cittadini, dei nostri concittadini in termini di servizi. Grazie. 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 Grazie.